Da un cortile di Milano a 60 paesi in tutto il mondo. Da un uomo con una visione a 50 dipendenti in Italia e all'estero. Tre generazioni, un unico obiettivo. Creare colle e adesivi per l'edilizia che semplifichino il lavoro di tutti. Professionisti e non. Sempre con uno sguardo al domani. È così che siamo passati dalle prime colle a base di farina di frumento a soluzioni sempre più sofisticate e versatili. A partire dagli adesivi per carta da parati. Da sempre il nostro cavallo di battaglia, fino ai collanti per pavimenti e ai prodotti per l'edilizia. Tante cose sono cambiate. Tantissime cambieranno ancora. Ma il legame con il territorio. La ricerca della bellezza. La valorizzazione del know-how italiano. L'amore per ciò che facciamo sono più saldi che mai.